segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te insomma ne abbiamo parlato lungamente e siamo a rebibbia vi faccio rivedere il primo minuto per abbiamo già fatto una piccola antecipazione qualche mese fa per farvi vedere dove siamo entrati questo è l'ingresso dell'istituto del nuovo complesso di repubbia un istituto che si compone in quattro grandi reparti e noi ci stiamo dirigendo al reparto oggetto presentiamoci io sono l'istettore Cinzia Silvano e sono il coordinatore del reparto oggetto un reparto di media sicurezza dove viene espletata insomma la sorveglianza dinamica la media sicurezza è un circuito penitenziario i circuiti penitenziari sono tre alta sicurezza media sicurezza e custodia attenuata l'alta sicurezza è in questo istituto in un altro reparto al G12 è una questione di attribuzione del circuito rispetto al reato nell'alta sicurezza c'è la prevalenza della sicurezza rispetto al trattamento nella media sicurezza si compensano e sono fondamentali necessari l'una all'altra e nella custodia attenuata il trattamento è prevalente sulla sicurezza se non mi addormo prima sei l'unico che mi vedo allora se non mi addormo prima sei l'unico che mi vedo allora in questo momento so che ci stanno guardando da da Re Bibbia allora quelle che vedrete sono tutta una serie di storie e di storie anche di carcerazione di lunga carcerazione media carcerazione e riconoscerete anche alcuni volti un po' più mediatici a un certo punto ma insomma c'è un po' di tutto cominciamo dalla palestra a 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 Diego, piacere, ci mettiamo all'ombra, no? Non lo vuoi, non c'è problema, c'è l'ispettrice, il sole insieme va. È bella questa, ha capito che ha detto? No, poi c'è stai te, il sole insieme va. Ho capito? Va bene qua, mi da qui. Sì, qua, va bene, la fama, restiamo. Ti chiami? Gianni. Di dove sei? Roma. Te stai fisicato, te lo eri spesso? Sì. Eri fisicato pure prima di entrare qua? Mezzo, mezzo? Poco acquista con un pochetto di peso qua. Quanto è che fai palestra qua? Cioè, quant'è che sei qua? Un paio d'anni, un po' di più. E ce n'hai ancora per un po'? Un altro paio d'anni. E quante ore ci passi qua? Faccio un paio d'ore, mattina e pomeriggio. E il resto della giornata? Siamo a disposizione della direzione, io sono lavorante volontario, MOF. Che sta per? Aggiustiamo, ristrutturiamo. Manutenzione, ordinaria, fabbricato. Qua com'è la quotidianità di questo reparto? Beh, questo è un reparto un po' particolare. Tutte le persone intelligenti che vivono all'interno del carcere dovrebbero avere un obiettivo, quello di poter uscire prima possibile. Questo reparto ti dà la possibilità, se sei intenzionato, a riprenderti la tua libertà, a costruirti un percorso. Sta sempre a te. Scegliere un modo, io per dirti che ho sport, ho un programma, lavoro. Tu prima di entrare qua dentro che facevi? Lavoravi? Io so, sì, lavoravo, diciamo così, lavoravo. Perché li devi? Perché normalmente ti avrei dovuto disannocente. Che ne so, dimmi quello che ti pare. Purtroppo è un po' tutto il contesto dove cresci, quello che vuoi, quello che ti vuoi permettere. In determinati modi sono cerchi la via più breve che potete avere, quello che magari non ti consente di avere un lavoro normale. E io ho provato a fare quello. E ora sei qua. E siete che non ci ho saputo qua. La verità. Al di là del fatto che stancarci non è bello, le criticità medie quali sono? Che ti posso dire? In cella quanti siete? Noi siamo in sei. Qui per esempio il problema del sovraffollamento lo percepite? Il sovraffollamento lo percepisci un po' dappertutto, però stando aperto, lavorando, non sei costretto a stare tutto il giorno dentro una stanza in sei persone. Logicamente sei esente, non siamo pochi. Però ci stanno istituti dove stanno 4 o 5 nella metà delle camere dove stiamo noi. Stiamo bene. Bene. Quello che ti posso dire io, se potrebbe stare peggio, ho visto te peggio, molto peggio. Tu sei stato solo qua come esperienza carceraria o altrove? No, io vengo da una lunga carcerazione. Visto camere, l'hai mai vista una saletta? Dove sei stata adesso? In biblioteca. In 100 persone. Sai cosa significa? Dentro 100 persone, 80, 70, stanno carceri come Venezia. Stanno uguali in sei, alla camera sono 5-6 metri quadrati. Tu hai detto che hai ancora un pochetto a sta qua. Un anno, un anno è qualcosa. Tra un anno il suo percorso a cosa dovrebbe portarti? So fare un po' di tutto. A parte che sono cresciuto in mezzo all'edilizia, poi ho avuto un ristorante, una pizzeria. Erano altri tempi, parlavo più di vent'anni fa. Tu ti senti al passo quei tempi o pensi di aver perso tempo qua dentro? Il tempo che perdi è normale che in tua vita nessuno. Siamo forti, ci proviamo. Ci proviamo a rimettersi in gareggiata. Forte, pari forte. Pensi che ci sarà del pregiudizio nei tuoi confronti, dei fuori? Quella è una cosa normale. Fuori tu c'hai qualcuno che ti aspetta? Sì, tutta la famiglia. Mamma, papà. Figli? Sì, ci sono due. Ci sono una di 24, sarebbe l'età che io sono stato dentro. Tu sei entrato a 24? Sì. Ma quanti ce n'hai? 48. Quindi ti sei fatto mezza vita qua dentro? Sì, mezza vita. Se calcoli che una vita vera comincia a vent'anni, sì. Però posso dire che c'è stanno cose che capisci qua dentro che la libertà non te le farà mai capire. Quello sicuramente, dopo di che se riesci a capirlo del cuore è meglio. Se no sembra quasi che è figo venire qua per capire certe cose, diciamo. No, no, no. Però magari una settimana io... Farebbe bene a tutti. A tutti gli uomini. Gli uomini, eh. A tutti gli uomini. E comunque sei ancora in contatto, i rapporti con i tuoi figli. Sì. E' loro che ti dicono? Ma aspettano. Quindi scusami, se lei ha 24 anni, lei ti ha visto sempre qua? Sì. La sua percezione del padre è quella di un detenuto? Sì. Due anni fa ho sentito mi figlia per la prima volta che chiamo a mio papà. I rapporti fra di voi? Come sono? Fra voi detenuti, dico. Ma qui scorre bene, scorre bene perché c'erano tutti un lavoro, un hobby, sono tutti impegnati. Io penso che questo sia il top. Personalmente io ho generato 54 vestiti di pena. Quanti? 54, l'ho fatto anche all'estero. In questi 24 anni? Sì. Anche all'estero? Sì. Ho stato in Romania, ho fatto 5 mesi in Venezuela, ne sono a Margherita, ho fatto 4 mesi... Hai fatto 54 vestiti di pena. Sì, vabbè, non c'erano la testa di oggi. Comunque, a precedere da tutto questo, penso che è uno dei reparti che funziona perché è gestito bene. Basta che ti metti la mattina qui e vedi quante persone vanno fuori a lavorare e rientrano la sera, già questa è una vittoria, no? Questo reparto almeno, penso che sia uno dei migliori. Dei 54 che ti sei fatto? Sì, ma calcola che c'è 193 istituti in Italia, eh. Vabbè, mica di io lo fa tutti. No. No, perché ne so, cioè che puoi fare... Io penso che per il momento è qua. Eh, speriamo. In Romania com'è? Difficile a immaginare come può essere. Se vive ancora tutto prepotenza, camere da 100, 110, è come la giungla. Chi c'ha più forza comanda. Non è solo dalla parte nostra, è anche dalla parte delle direzioni, eh. Preghiamo una litigata, scommettere le sigarette. È una situazione che è inimmaginabile, a meno che non l'ha vissuta. Una delle cose principali che mi ha reso, puramente, una persona diversa, eh, perché quando riesci a vedere... Diversa è un positivo o negativo? È un positivo. Dirò che mi ha dato un modo di pesare e di dar valore veramente a quello che sono i carceri italiani in confronto a quello che c'è all'estero, no? Ma pure fra i carceri italiani però c'è carcere e carcere. Certo. Ci stanno casi dei suicidi. Tanti, 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 tanti. Per questo io... Tu hai avuto qualche esperienza in tutta questa tua... Sì, io c'ho più di una, più di una. Purtroppo sono pure, non solo le condizioni, ma anche lo stato mentale delle persone. Logicamente ci stanno carceri che sono vivibili e ci stanno persone che si rendono la vita invivibile. C'è qualcosa che vorresti che se sapesse della vita in carcere? Può servire a poco, ma ci stanno persone che non ci dovrebbero manco stare qua dentro. E purtroppo la legge non è uguale per tutti. Ci stanno persone avanti con l'età, persone con veri problemi di salute. Mandi in carcere una persona di 80 anni, delle patologie. Qui viene aiutato, viene curato, ma più di tanto non gli puoi fare. Ci stanno tanti dei problemi. In carcere chi c'è finisce? Oggi qui in Italia ci possono finire tutti. Chi c'ha i soldi ci finisce? Più difficilmente, ma ci finisce pure chi c'ha i soldi. La risposta di solito è che ci finiscono i poveracci. Veramente ci rimangono i poveracci. La fanno tutta. La condanna viene fatta per intero. Invece chi c'ha più possibilità? Quella, il concetto. Che ti dà tu a giù? Ci sono segni di vita. I nomi dei figli, i nomi delle persone importanti, i segni di quello che ti fa la galera. Ogni volta che mi guardo allo specchio, ci sono cose che non me le posso scordare, perché ce l'ho stampato addosso. Per me il senso del tatuaggio è questo. Topolino non me lo trovi addosso. Topolino non te lo trovi? Topolino. Che ti trovi addosso? Che c'hai? Tutti i segni della sofferenza. Si fanno pure questi. Un mazzo al tempo. Chi fai i tatuaggi qua? Beh, i tatuaggi si fanno. Non lo so io... E poi svegliamo pure la mattina che sei tatuato. Che sei tatuato e non lo sapevi prima. Chi sei tatuato? Va bene. Grazie mille. Buon allenamento. Questo era Gianni. 54 istituti di pena. Te puoi svegliare la mattina che sei tatuato, diciamo, la chiusura. Da lui passiamo ad un ufficio accanto. Grazie a lui. Simpsi ma, who got the keys to my blood clot bim-er? Big time driller, monkey to gorilla. Who is this woman that I'm seeing in the mirror? Drink 42 and smoke cigar. Name one time where I didn't deliver. Silent figure. I was just on the ends, dropping gems with my friends. I got a 3310 and a pack of blems. Then got the gold, full black, circle back again. Rapping when nothing progressive was happening. Ooh, pain tolerance couldn't break us. Ok, questa è anche la idea della necessità del fatto. È il miglior nome che si addice ad un ufficio particolare come questo. Tu sei? Fabio. C'eravamo visti. C'eravamo visti. Nel reparto di alta sicurezza, nel corso di giornalismo che ora stiamo facendo qua. Adesso sono qua da circa un anno. Dopo 13 anni di alta sicurezza sono passato alla media sicurezza. Che vuol dire? Si può essere un po' più rilassato con te? Tu sei di Corigliano? Io sono di Corigliano Calabro. E' stato applicato quel principio di progressione trattamentale. Ci sono amici che conoscono bene il reparto di alta sicurezza, detenuti da circa 30 anni di un reparto di alta sicurezza. Quindi questo principio. C'è la politica della cosiddetta stagnazione in carcere. Io mi ricordo a un certo punto dissi YouTube e mi fermaste perché alcuni di loro non sanno manco che è internet. Realizzai che avevo intorno persone a cui si era fermato il tempo. Si era fermato il tempo. Hanno iniziato dalle scuole elementari per poi trovarsi con una laurea magistrale in giurisprudenza. Che vuol dire che te sei lo scrivano delle Bibbie? Hai a che fare con i tuoi pari. Io mi occupo dalla grazia del Presidente della Repubblica, al differimento pena. La fanno loro nel loro nome ma gliela scrivo io. Ciao Gioia. Io mi chiamo Paolo. Lo scrivano. È una cosa semplicissima. Questo qua è la domandina. Fammi un esempio di domanda. Si chiede la signora vostra di comprare un pacco di tabacco. Qualsiasi cosa che bisogna rifare c'è una domandina. Come si diventa scrivano sul titolo del studio? Ma no, no. Scrivano si diventa perché si ha un minimo di competenza. Ok. Bisogna avere anche l'affidabilità. Qua dentro faccio anche il sacrestano. È una battuta vero? No, è verissimo. Il sacrestano significa essere a disposizione della comunità carcerale dei nostri compagni per verificare se hanno bisogno di qualche esigenza. Spesso e volentieri. Molti detenuti non hanno i soldi per mandare le mail a un familiare o l'avvocato. Quindi il prete, cioè il cappellano, si presta chiaramente o volentieri a mandare una coppa. Comunicazione a casa. Facevo un po' la maniera dei filipi di turno, capisci, c'è posta per te. Fare il sacrestano significava anche comprensione, non è confronti agli altri. Cercare di dare un abbraccio, una carezza. Fare un po' come si dice, ho perso coloco di turno. Gianluca ha fatto parte di questo nostro team. Pure te scrivano. Anche io scrivano. Spesso ci capita anche di fare cose che sono un po' drammatiche. Il permesso di necessità perché magari c'è qualche familiare che viene meno. C'è un problema di natura sanitaria. Poi facciamo le liberazioni anticipate. Il problema del CERD è un problema. Il carcere è un problema perché il carcere, caro Diego, non cura le persone. Curano i posti fuori dal carcere, le comunità terapeutiche. Se tu qua entri a tossicodipendente devi iscriverti al CERD interno, ma ti indirizzano poi delle strutture fuori per curarti. Del carcere ti può dare il metadopi, però poi ti fa stare a tozziare in cella. Non hai la droga, ma la persona tossicodipendente pensa sempre a quella problematica. Nelle serie TV in carcere entra la droga. Può entrare, ma il problema è proprio questo. Come possiamo aiutare queste persone? Tu prima di entrare qua che facevi? L'avvocato che poi sono qui, punto. Da quanto? Da sei mesi, vengo da San Vittore Opera. Tu da quant'è che stai qua? Da sei anni e mezzo. Però mi sono fatto tre anni a San Vittore e due anni, poi domiciliare un altro anno. Tu quanti anni hai? 13 anni dopo 50. 63. La tua prima esperienza carcere a che te è stata? Porca miseria, 52 anni. Tu fino a 52 anni eri libero? Certo. Perchè di una penale pulita? Assolutamente sì. Poi un giorno a un certo punto è venuto alla guardia di finanza e mi ha arrestato. Ho trascosto il primo mese piangendo. Quindi i miei figli che mi venivano a trovare, loro facevano papà e mamma, io ero il bambino. A me piacevano, loro mi accarezzavano. Quanti figli hai? Due. Il rapporto è rimasto? Si è rafforzato in maniera decisa. Ho assoluto quella consapevolezza che prima non avevo. Prima correvo e basta. Il carcere mi ha dato la possibilità di avere il tempo per comprendere, capirmi e capire. La perdita di libertà è il lutto principale dopo la perdita della salute. Io sai perché ho la barba? Perché sono lutto. Un giorno riesco alla quale la barba la taglio. La mia grande fortuna quando sono stato in carcere è aver avuto il tempo di capire cosa mi era successo nel momento in cui avevo fatto il reato. Cosa mi mancava? Il senso della responsabilità nei confronti della norma. A me la norma, non la norma, non me ne può fregare a me, non lo faccio che devo fare, lo faccio. Il carcere cosa ho imparato? Di starmene a studiare. E quindi mi sono fatto una coltura. Sono da sei anni e mezzo che faccio il monaco dello studio. Che devo fare in cielo? Scusa, che faccio? No, no, certo, certo. Non ce ne sono di conseguenza. Non ce stanno. Non ce stanno. Non ce stanno niente. Anche perché l'età non permetterebbe chiaramente. Andiamo avanti. Parliamo di altri. Questo è la vita. Studio e basta. C'è tutta la televisione? Certo. Seguite il dibattito, la politica? Certo. E che pensa? Che mica siamo un certo polso ignoranti completamente? Abbiamo in giornale. No, guarda che chi segue il dibattito non è. Oppure rimane ignorante. Tutti, ce l'abbiamo tutti, specialmente ce l'abbiamo quelli di centro. Quelli di centro? Di centro. Che fuori sono pochi. No, di centro, guarda. Di centro, c'è una quantità. Ho detto, detto così, sembra brutta. No, di centro. Di centro, di centro. Ecco il grande centro dove è finito. E' nel carcere. Scusate. Allora, sono Fabio Paolo e Gianluca. Storie, insomma, più o meno le cominciamo ad intuire. Poi con Fabio mi ce l'ho già incontrato appunto in precedenza. Nel reparto di alta sicurezza, da cui è uscito. Adesso sta lì. Televisione, dibattito, sinistra, destra. E lui ha proprio specificato questa cosa del centro. Dice, lì è pieno di persone di centro. Adesso non vorrei fare un'associazione immediata, però questa era la conversazione. Questa è una grande notizia. Eh, il sondaggio. In questo luogo qua noi facciamo anche un'anagrafe e curricula delle persone che entrano in carcere. Noi l'abbiamo inventato, un'anagrafe della popolazione di detenuta, che è quella lì. Seconda chance. Seconda chance è la base principale del nostro lavoro. Progetto dove fare incontrare i detenuti con i prendi contatori di lavoro. Devi calcolare che un punto di percentuale di recitiva costa allo Stato italiano 50 milioni di euro. La percentuale di recitiva vuol dire la percentuale di persone che sono state entrate. Che rientrano. Non è detto che le persone che tu trovi in carcere sono tutti colpevoli. Qua ci sono anche persone in attesa di giudizio. Ce ne sono tante. Sono al G8. Il carcere non è soltanto G8, è il bello del carcere. Ci sono diverse attività trattamentali, ma ci sono dei ghetti. Io ho dato fatto Padova, Bologna, Roma, Siano Catanzaro, Rossano, Castro Villari, Secondigliano. Ci sono dei lager, non sono questo reparto. Va bene. Io dalla 7 viva tutto ciò che tu rappresenti, perché sei una bellissima persona. La verità, quando ti ho visto in televisione non tanto mi ero simpatica. La verità. Stavo sul calcio. Comunque ho detto con il giudizio. Sono contento perché sei una bellissima persona. Grazie. Anzi, vieni qua. Grazie. E questo è l'altro ufficio, diciamo così, che abbiamo conosciuto. Allora, tutte le storie, cominciamo a metterle in fila, e ci restituiscono quello che poi, insomma, abbiamo imparato, perlomeno a scuola abbiamo imparato, fosse la funzione del carcere. Cioè, reinserire le persone nella società, che è una roba che è totalmente sparita dal dibattito che si fa tutti i giorni quando si dice, ma andiamo in carcere, buttiamo la chiave, facciamo di marciare, eccetera, eccetera. Ora questo è il reparto G8. Ringrazio l'ispettore capo Cinzia Silvano, il direttore Rossella Santoro. Abbiamo fatto, l'ho detto anche l'altra volta, lo ridico, insomma, non abbiamo potuto vedere alcune cose, fare alcune cose, tutte queste interviste, per esempio, non sono nelle celle, sono in altri luoghi, sono detenuti con cui si era deciso di parlare. Insomma, tutte le storie sono le loro storie e i vari progetti che vedete provano a reindirizzare queste persone per quello che verrà dopo il carcere. Andiamo nella falegnameria. Buongiorno. Buongiorno. Qui praticamente arrivano i legni e il maestro qua che è andato qui. Chi è il maestro? E anche Pignolo poi. Se qui sono i pezzi delle barche, come arrivano? Che barche? Lampedusa. Una volta così vengono fatte tutte così, strisce, una volta messe a misura vengono composte dalle barche di Lampedusa, ricavate i crocifessi, rimangono lo stesso colore che arrivano. Perché tutti i crocifessi? Perché il Vaticano quest'anno chiesto. Il Vaticano. Ah, la metamorfa, sì. E poi il prodotto finito è questo. Eccolo qua. E ti chiami Fausto? Abbiamo imparato qua, è un bel lavoro. È anche bel pagato. E poi se stai tranquilli. Non al carcere qua. Al carcere di meno? Al carcere è un po' di meno, troppo che dobbiamo pagare il conto. Quanto c'hai di conto ancora da pagare? Ma solo tre anni, niente particolare. E quant'è che stai pagando? E sono due anni. Come un ristorante, uno ordina, ordina, poi la cameriera che vuole i soldi, no? E così succede. La vita è così. Quale cameriera chi sarebbe? Lo Stato. Lo Stato. Te sei molto cattolico? Che stai a fare tutti questi crocifissi? Senni. Non tanto, ma però insomma mi sto adeguato. Mi sto adeguato. Ogni tanto vediamo. Sta a diventare cattolico, crocifisso dopo crocifisso, dici? Vediamo pure se funziona ogni tanto, no? Poi crei qualche cosa. Certo. Beh da niente, vai dai, il bar che c'è, c'ha pure un significato. Calcolando che c'è molta gente per queste cose, perché vengono qui i barconi. E te ne hai mai fatto questa cosa prima? No, abbiamo imparato, il maestro ha imparato a tutti quanti noi. Le chiami maestro? Stefano. Io ne sapevo niente del rosario. Tu sei fare gname, vieni qua per insegnarlo? Sì, io mai avrei pensato, perché a me mi metti a fare rosario. Il rosario è difficile? Eh! Qual è la difficoltà del rosario? Tu c'hai il suo filo che devi infilare, a parte che devi contare, perché il rosario non è una cosa così. So, dieci. Ave Maria. Ave Maria, un padre nostro. Dieci Ave Maria, un padre nostro. Non te devi sbagliare. Te devi sbagliare. Poi alla fine c'hai i padernossi diversi, questi. C'hai questi che c'hanno? Questi, vedi, sono quadrati, ma c'è tutta una storia. Lui mi saluta mai. Sei fan di chi? De Maccox? Sì, mi seguiamo. Ci seguite, grazie. Una grande prova. Che devi dire a Maccox? Noi ti seguiamo tutti, io da casa, loro da qui. Vabbè, ognuno te lo sta. Sei un grande. Non hai mai detto l'ultimo, è da qua. Attenzione! Vabbè, speriamo che esci lui prima. Cioè, te la bufate. Entrai un attimo. Speriamo che esci te. Entrai un attimo, esci te più problematico. Grazie. Andiamo al call center. Andiamo al call center. I grazie fan di Maccox. Fausto, questo è un progetto metamorfosi, progetto mondatori dove si presenta e ricicla il legno delle barche dei migranti in crocifissi, destinazione Vaticano, Rosari, il mondo del Rosario, il maestro Faregnari diceva, è mica facile, Rosari è macello, bisogna essere molto precisi. E stiamo andando verso un call center e poi a scoprire altre storie. Dopo la pubblicità, tra poco. Grazie a tutti. Applausi alla propaganda che sta in particolare a Gabriele Lazzarotti al basso. Per ciò che ha suonato, ma anche per ciò che sta per dirci, Gabriele? Sì, abbiamo suonato Tintown di Jacopo Astorius perché in questi giorni sarebbe stato il compleanno. Jacopo Astorius! Trenza Appa, Jacopo Astorius, qua diamo tutto per scontato. Torniamo al reparto G8, andiamo verso un particolare call center. Torniamo al reparto G8, andiamo verso un pop out. Spira. Il tempo passa sotto noso come avessi messo coca nella Clessidra. Odio la mattina il sole e filtro sulla vita quando il buio mi attira. Respira. Niè che punta di piedi ci arriva. Nella testa una voce assassina. Fa sparati in bocca e fai il primo. Vivo compulsivo in una rep, entro in paradiso con lo scanne sulla rete Serve che lo scrivo, mi cattelli in segnaletti, al biglio della vita non c'è mai la segnaletti Scegli Come ti chiami? Lisa Noi siamo una cooperativa sociale, ci occupiamo di reinserimento E abbiamo una convenzione con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù I nostri ragazzi sono dipendenti che lavorano sia all'interno che all'esterno del carcere In misura alternativa e lavoriamo con l'ospedale nel centro unico di prenotazione Se io chiamo per una visita a mio figlio mi rispondono loro Esattamente, abbiamo dieci ragazzi e ne abbiamo altri otto dentro l'ospedale Quando possono e sono nei termini per uscire, loro sono assunti con contratto a tempo indeterminato Continuano a lavorare con me, sempre con la mia cooperativa ma fuori da qua Buona giornata signora, a lei Buongiorno Buongiorno a te, come ti chiami? Cacioli Giulio Chi hai salutato? La signora Che chiamava per? Una radiografia per un bambino Quanto è che fai questa cosa? Già un anno Facciamo una formazione che dura un mese e mezzo, due mesi e poi inizio a lavorare E tu quant'anni c'hai? Tre anni E stai qua da quando? Cinque anni e qualcosa Con questo lavoro mi sento migliore proprio come persona ma praticamente di caldo Perché dopo cinque anni è la prima volta che lavoro, proprio un lavoro serio Ti senti utile diciamo? Quando faccio il mio dovere mi sento più sereno con me stesso Non mi è mai capitato perché prima non facevi il tuo dovere Solo una cosa mi piaceva veramente, giocare a pallone Che però non è un lavoro per tutti, giocamo tutti a pallone Però qualcosa ti potrà fare Grazie a questo lavoro mi sento meglio veramente Alla fine sei sempre buttato in cella, non fai nulla Faccio un po' di attività sportiva, basta Stai in cella quanti siete? In cella State stretti o state? Stretti Sparecchio stretti E chi ti chiama? Lo sa che sta chiamando il detenuto? Forse qualcuno Però la maggior parte no Fammi il tatuaggio sulla camera Fammi il tatuaggio sulla camera Questo è il pare d'ottimo al cugino Questo sarebbe Totti ma pare il cugino Perché non è venuto somigliantissimo Sarebbe essere Totti Ma il cugino Non è somigliantissimo Qua ci serve a dire Tutta Roma Tutta Roma Tutta Roma Mi partite perché le vedete qua Quelle su a Rai, Canale 5 Ma è meglio che ne vedi Magari mettono uno schiavo Lascia per, lascia per giusto sofferenza Neve Eccolo qua Sono Marco Tant'anni c'hai? Quasi 39 Quasi due anni che sto qua dentro Qua dentro o qua dentro? Qui dentro sono 5 anni e 8 Quindi sei entrato 33 All'anno di Cristo All'anno di Cristo hai deciso di fare questa esperienza? Io sono messo un croce pulito Ti sei messo un croce pulito? Poi Cristo è risorto Eh lo so Te ci metti un po' Io un po' più di tempo di 3 giorni però Quanto ti manca? La rifraffanarti tu anni e 8 Problemi? Non ho le mie cose che ci aspettano Ho un permesso Un'esperienza lavorativa fuori al carcere Sono cose nostre che ci aspettano Di diritto Te fuori che c'hai? Io ho moglie e tre figli Stasera vado a fare prima di mettere in croce? Bastanza Questi tre figli che dicono? Sento una mancanza Specialmente il piccoletto che sono stato già 7 mesi 8 mesi Ma come conosciva? Ieri Sì Ogni settimana E i colloqui va come funzionano? Abbiamo 6 ore di colloqui al mese E i tempi del covid come avete fatto? Eh Un anno e mezzo 20 minuti le video chiamate a settimana E basta E vabbè Le chiamate ovviamente poi al telefono 4 chiamate a settimana 10 minuti La chiamata Che cosa hai paura di essere perso? Tante cose da la famiglia Per mettere i cazzini La più grande c'era 8 anni E poi c'era 14 Sono perso tanto Vorrei recuperare tanto con loro Poi seguite un po' il dibattito Quando si parla di giustizia Dei carceri Che impressione hai? Non c'è niente per noi Che non c'è niente? Per noi c'è proprio niente Non fanno di tanto per noi A parte il carcero Di prova E capi veramente quello che è Come io racconteresti Prendi del tempo che vuoi Non è un quiz A parte il ci venite Non è un quiz A parte il ci venite A parte il ci venite È un'esperienza tosta Dura Molto Che cosa vorresti che se sapesse Che non se sa Il racconto del carcere ormai è Mare fuori La serie di bui Sì Tu pure è un posto dove si deve finire Marco deve andare in carcere Buttiamo la chiave Marco deve andare in carcere Deve marci in galera Sai sono queste espressioni Che vengono usate anche da politici Spesso Ovviamente sì Dalla gente comune Non siamo quelli sbagliati Quindi siamo fatati Però non è così Qui siamo tutte persone umane Maggior parte padri di famiglia Non è giusta secondo me Usare questa espressione Hai sbagliato Dei pagati Non possiamo tutti sbagliare Una possibilità La rimeditiamo tutti Perché è la prima volta Che sto qua dentro Problemi di inserimento Integrazione Di impatto Ce ne hai avuti? Certo All'inizio sì De che tipo? Non sapevo come funzionavano Determinate cose Ma non hanno dei impari Ci sono delle regole Tutte quelle cose La legge del più forte Tutte queste cose No che ne so Chiedo Faccio domande subito Forse una volta No non ci stanno queste regole Siete conforti bene Buongiorno e buonasera a tutti A posto E buon lavoro Grazie Grazie a te Scusami Tu da quanta che sei qua? Dal 1998 98 Sono l'amministratrice Di questa piccola cooperativa 27 dipendenti Tutti detenuti Questo è un lavoro Questo è un lavoro Con un contratto collettivo nazionale Per cui uno stipendio Intorno ai 1200 euro TFR Ferie pagate Mi permette di mandare i soldi a casa Secondo te È ben visto Che dei detenuti No Lavorino Ma soprattutto guadagnino No Non è ben visto Ti faccio l'argomentazione spiccio Ecco io non ho fatto niente Sto disoccupato Quello ho fatto qualcosa Sto all'appia Mille due mesi Lavoriamo su creare possibilità di lavoro Anche per chi Anche per chi sta fuori Certo Non è che devi andare in galera Visto che si parla tanto di sicurezza La sicurezza passa attraverso Il rinserimento delle persone Se noi le persone le abbandoniamo Quando sono fuori Inevitabilmente Torniranno a fare reati Grazie Grazie a te Buon lavoro Capito che totale cambio di prospettiva E adesso andiamo verso l'area più condivisa Diciamo ora si chiama l'ora d'aria Per volgarmente detta Usciamo Buongiorno Questo è il campo da calciotto del giotto Calciotto del giotto Ma è anche l'area passeggio Dove c'è anche un campo da tennis Quando si dice l'ora d'aria Questa è volgarmente parlando L'ora d'aria Adesso sono aperti un paio d'ore Buongiorno 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 Io te lo dico Io te lo dico proprio chiaro e tu Come ti chiami? Gizzi Franco Almeno riguardo alla popolazione calciaria Questo è un reparto speciale In dove funziona un po' tutto Però? Però ci stanno pure cose che non funzionano Per esempio La sanità non funziona Sbaglio dottore? Non mi rispondo Ma non cerca conferme Dimmi a me Non ci sono medicinali Non c'è niente Io ho tre incompatibilità Dovrei stare fuori dal carcere Ogni volta che vado a discutere Il giudice di sorbignanza Legge solo i precedenti penali Quando il codice per la procedura penale dice E la Costituzione dice Che bisogna far guardare la salute di un detenuto I precedenti non contano niente Tu c'hai problemi di salute? Molto seri Molto seri Io sono svenuto stamattina qua Vengo sanzionato Per queste cose che io sto dicendo Ma non dipende Non dipende da loro Dipende dalla sanità Dalla ASL Che loro non possono intervenire Se fosse per loro Intervenirebbero Ci sta il preposto Che interviene su tutto Ci sta la rispettrice Che non può intervenire sulla sanità Perché non ti fanno intervenire Questo è un problema tuo e anche dei altri? Anche dei altri Dei denuti che stanno anche peggio di me Ci stanno anche persone anziane? Ah ci stanno persone anziane Ci stanno persone con 81 anni Perché non si reggono neanche pieti Comunque l'hanno raccolto oggi Vanno sanzionato Sì ma non l'ho raccolto Ma hanno portato Non si fa 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 Ah io sono il presidente della squadra Perché questa è la squadra del G8 Del G8 Sì Questo è di 81 anni 81 Ma non è vero Come non è vero E qui è il più anziano Che c'è qui E poi c'è anche E faccio tutto quell'orto Lo vedete? Quanto è che stai qua? 15 anni E quando dovresti usci? 9999 Vabbè ci siamo quasi Le donne si amano E si portano fiore Non si ammazzano le donne Se c'è qualcuno Che ammazza Le donne Scrivete qui Zio Santino Barbino Che io ho 200 talebani fuori Ne mando uno sotto casa Perfetto Mi farei proprio la premessa Per uscire Ho 200 talebani calabresi Le toccano qualcuno Le donne Scrivete qua Zio Santino Che mando un talebano calabresi Quello Sbaglia tutto È un modo di dire Non bastona nessuno Non è un modo di dire Ma Mark Ox Non hai portato? Chi? Mark Ox Mark Ox Mark Ox Mark Ox Quando mi freghi Mark Ox Si muove dal divano Ti piace Mark Ox Tutti i venerdì Come ti chiami? Cianca Cianca Io Mark Ox Io sono il cuoco Lui è il cuoco? 1400 1400 persone cucinano 1400 persone? Normale Spendiamolo schifo Ecco Andiamolo Andiamo A 7 Luca E' 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. A te sei portiere o te ci hanno messo? Sei portiere fracico? Grazie a tutti. Allora, intanto un applauso alla situazione. Tu sei portiere, portiere fracico. Portiere fracico, cioè sono portiere molto convinto, lo dico fuori dal raccordo, magari non si capisce il senso. Avete sentito un po' di storie? Quella era una situazione un po' meno, non controllata, però insomma, molta spontaneità, avete visto? Forse anche troppo. In alcuni frangenti c'è un riferimento alle donne che non si uccidono, perché in quel momento c'era un altro femminicidio di cui si era parlato molto, quello di un'altra Giulia, quella che era stata uccisa, perfetto, Giulia Tramontano che era stata uccisa, la ragazza è incinta che era stata uccisa. E lì il dibattito per dire che il tema con cui abbiamo aperto la puntata con Francesca è tanto attuale adesso, continua ad esserlo dopo il 25 novembre, lo era tanto anche a giugno, tanto per mantenere una continuità. Avete sentito? Quindi non è solo, se si può parlare di rose e fiori in un carcere, però avete capito, insomma ci sono anche cose che non vanno e alcune sono state raccontate, continuiamo e andiamo in un altro posto. Andiamo di qua, torre in azione, dai! Raccontami sto posto, abbiamo notato che nel Lazio non c'era una vera e propria torrefazione, ho proposto alla direzione anni fa di aprire una torrefazione al fine di formare i ragazzi a riparare le macchine. Tu non sentite nulla, tu sei... no, caggianti che sa che... A riparare le macchine, lui è Mauro Pellegrini, un applauso, che diciamo si occupa di questo posto, la torrefazione. Le macchinette del caffè che è una professione molto molto richiesta, in più la vera e propria torrefazione, dove si importa il caffè crudo, si miscela, si tosta e poi si distribuisce... Il caffè Galeotto? Il caffè Galeotto. Più commesse abbiamo dall'esterno e più posti di lavoro e più formazione produciamo. Tu sei torrefattore? Sì, da un chicco così arriva a una lavorazione... Questo qua, fa niente... L'ho dotato. E te sta cosa ancora la fa qua? Certo. Quanto è che frequenti... Quattro anni. ...so pazzo? Che sto qui dentro sono undici anni. Dicenai? Quaranta. Quanto c'è di vista ancora a torrefazione? A marzo dovrai finire. E c'hai paura di uscire? No, ho cercato di impiegare questo tempo nel migliore dei modi. Mi sono diplomato, mi sto lavorando e manca un'età. In che? Il rete di teotopia. L'esame lo sto dando in antropologia. Sul comportamento umano e su quello che è il comportamento umano può essere normale o anormale. Quali sono i canoni della normalità e della non normalità. E sul comportamento umano hai imparato più di fuori o qua dentro? Più qua dentro. Vieni che possa esserci un pregiudizio verso la tua attuale condizione, cioè per il fatto che sto lavorando a imparare la caccia. Questo sicuramente. Che c'è da tua? Una cassetta? Sì, la musica. La musica da in te? Eh, la musica è fatta. Le cassette sono più roba mia che roba tua. Eh sì. Che sì, non sai quant'anni ho io. Eh sì, è arrivato. Vabbè, perché comunque... Sì, sì, comunque sì, sì. Ma non perché ti mostri. No, 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 tranquillo ormai, la fatta. No. Mi saluti celata, mi è tanto simpatico. Mi ci piacciono davanti e mi ammazzo dalle risate, perché? Ti ammazzi dalle risate quando? Quando fai il telegiornale? Sì. Fai il telegiornale non te devi ammazzare dalle risate, cioè lui... No, ma mi è simpatico... C'è capito, celata, fai il telegiornale, lui si ammazza dalle risate. C'è un modo che a me mi fa... Ti mette del buon umore, eh, lo so. Come le dice i tragedi di lui, nessuno. Se ci metto lo zucchero è brutto? È brutto. È brutto. Capito? Cioè, tu, lui, vede il telegiornale e si mette del buon umore. L'importante è che vede il telegiornale. Tu ti racconti, guerre, tragedie, cronaca, lui comunque te vede... Va bene così. Ti rilassi. Oh, questo è il fatto, che te devo dire? E questi sono i sondaggi fatti sul campo, prende il caffè, mi parla di te, per dire così. Questa è una cucina, ora c'è la camera da letto, rubinetterie, piatti. Ti stava fatto dire? Sì. Ma a fine questa c'è la destinazione di po' presepe? Sì, vabbè, sono tutti, tutte cose... La famiglia mi viene da salire, ancora almeno mio nome. Ecco, infatti, là, volevo arrivare. Tu di dove sei? Io sono di Napoli. Ti chiami? No, di Gennaro. Tempo che sei qua. Sì. Tra quanto? 2028, siamo alla fine. E sto dal 2008. È tutto relativo, infatti. Il lavoro è importante. Quando non lavoro, sta chiuso 24 ore in cella, è noioso. E quando esci, riesci di rientrare? Eh sì, se non fai niente. Ognuno ti fa comunque c'è qualcosa dentro, che fuori dallo stutto. Pier Francesco che ha trovato Pier Francesco. Guarda, guarda, che non si vede. Ok. Sono la brava. Qual è il problema vostro? Allora, che lui si chiama come me, Pier Francesco. Eh? Pier Francesco tutto attaccato. Accato. Pier Francesco tutto attaccato nel mondo non ne sono tantissimi. Nel mondo, eh, mitomania totale. No, no, perché Pier Francesco tutto attaccato derivano da un errore alla nagra. Eh certo. Questo è Pier Francesco tutto in me. Eh beh, non lascia lo sta così lo strozzi, voraccio. Lo sta sconnando. Ciao Pier Francesco come lui. Grazie di tutto. Applausi alla Torrefazione. E a Pier Francesco tutto attaccato. E andiamo all'ultima intervista, l'ultimo personaggio di questo viaggio nel G8 di Re Bibbia. Incontriamo Luciano. E' un'unificazione di beni. Più reati, poi c'è più cose che messe insieme fanno 42. Sì. Di sti 42 te ne mancano 8, ho capito bene? Sì. Perché sto sempre in botto, però alla luce dei 42 sono pochi. Cioè, sono diventato. Ma io non guardo mai quelli che ho fatto. Io guardo purtroppo quelli che mi rimangono da parte. C'hai ragione. 8, poi c'è stata la liberazione anticipata. Ci sarà. Speriamo di sì. Io sono 5 anni che c'è scuola. Prima stai... No, io prima ero libero. Quindi sono arrivati dei definitivi, dei reati, pure dei 14, 15 anni fa, che hanno consentito una revoca che ha permesso un cumulo. E quindi dice, guarda, ci siamo ricordati. A te te mancano ancora 9 anni. Poi dice, no, aspetta, ci siamo sbagliati. Sono 14 e 4. Sono l'unico abilitato perché? Che fai? Mi sono proposto per fare delle attività di riparazione, delle cose che nessuno riparava, tipo sgabelli, tavoli, armadietti. Faccio quello che mi chiedono di fare. Il bilancio di questi anni trascorsi della vita da detenuto qual è? C'è da fare una distinzione che è molto importante. Prima del 2015 il carcere era concepito in una maniera. Poi una persona che fondamentalmente mi sta antipatica, ma che ha fatto una cosa importante è Prodi, con il suo ministro della giustizia, perché ha creato una sorta di detenzione dinamica. Quindi l'apertura delle celle è maggiore. E te Prodi testerebbe antipatico? Prodi no. Prodi no, no. Chi è che testerebbe antipatico? Non ho capito. No Prodi, perdona, di Matteo Renzi ho sbagliato. Ah, no, è importante, non si sbagliato. Che ne so. Qua si stavano comunque dando... Poi ora capiamo se nella sua ottica dei meriti, insomma comunque è un regime carcerario sicuramente diverso. E qua è importante le scelte della politica. Quando si dice no... Cioè qua c'è stata una scelta nel 2015, che lui l'ha data, in cui stare in carcere è cambiato. E lui prima se sbaglia dice Prodi, in realtà era Renzi. Vediamo che cosa è cambiato. Lui che ha creato comunque questa cosa importantissima... Ah, ecco, quindi Renzi sarebbe, vedi? E quindi c'è l'apertura delle celle, un modo di pensare che io ancora devo abituarmi come carcere, perché ho avvistuto il carcere in tutt'altro modo. Cioè molto più restitivo. E dove gli fa la galera? Stavi chiuso e stavi al carcere. Invece adesso stanno tutti aperti, molto più solito. A me le pare in collegio. Troppa libertà. No, tu stai sempre comunque in carcere. Cioè prima c'era un uso spropositato dei psicofarmaci, perché adesso c'è sempre ma molto meno. Perché la gente sta più aperta, riesce comunque a gestire la sezione in modo molto più efficace. Anche se poi purtroppo la differenza generazionale con questi ragazzi proprio non me ce trovo. Non te ce trovi? No. Qual è il problema? Il problema è che è cambiato la cultura, il pensiero, i principi, le necessità, i valori, le tipologie dei reati. Adesso in carcere c'è il 90% della gente che fa reati per la droga. Io non c'ho reati per droga, c'ho reati contro il patrimonio, la persona, le armi, tutte cose diverse, io non me approccio. Io richiamo i nuovi commercianti. La droga c'era pure ai tempi tuoi, nostri. Sì, ma non eri un commerciante. Questo adesso è diventato un commercio molto specifico. Mi ritrovo male proprio come modo di pensare, non c'è solidarietà, non c'è quello che c'è una volta. Qua però te devi adeguare. Sai come si dice a Roma? Devi essere buono per boschi e per i piedi. E io cerco da tante, però è difficilissimo. Cioè c'ho scontri continui con questi ragazzi, perché poi c'hanno modo di pensare che non... non riesco a conciliarci. Su che cosa? Su tutto, sul sistema, sull'educazione, sul modo di fare, come rispondo, me danno fastidio. A parte che non mi sopporto neanche da solo. Sono più cafoni, cioè tu li vuoi un po' più educati, più rispettosi. Non esisteva questo regime così menefreghista all'interno dell'istituto, c'era molto più rispetto. Sono sensibilità, che prima c'era e adesso non ci stanno più. E non hai dei vari età con cui te trovi invece? Sì, sì, pochi. Mia madre mi diceva, diceva, ma i tempi nostri, e adesso mi ritrovo a dirlo pure io, e non riesco a riconoscermi in quello che ero io passato. Tu hai famiglia? Sì. Figli? Uno? Età? 32. Mi è nato che già sta con carcere e è continuata così. E hai i rapporti? Sì, sì, insomma, più o meno, non proprio idiliaci. Pure quello che non lo vedo. E con quello volevo capire. Purtroppo sono entrato in carcere perché la madre era incinta di 7 mesi. Sono uscito che aveva 16 anni e mezzo. Avevo passato un periodo burrascoso, negativo, ma... Tu sei uno che è uscito e rientrato? Eh, sacco, io ho fatto 16 anni e poi altri tutti 4-5 anni per volta per non farmi mancare niente. Come ci senti in carcere? Purtroppo nessuno ha vissuto la tua vita, il disagio o il degrado o comunque i tuoi traumi. Tutti dicono, ah, tu potevi scegliere. Eh, ma io ho scelto. Ho fatto l'unica scelta che potevo fare in quel momento. Tutti si impersonificano, ma poi alla fine loro ci hanno avuto la loro vita, io la mia. Comunque io sono orfano da ricazzino e io scelto quello che devo fare. E faccio sempre un esempio. Io a tavola, a casa, ho un'incelata con un piatto disegnato sopra e alla sera ce l'ho dovevo mettere, vedo. Fa come te vada a te, io il piatto sul tavolo lo dovevo mettere. E questo poi ti porta le conseguenze che chiaramente fa il carcere perché nessuno può pensare di fare una vita da impunito. Però quella era la soluzione più vicina alla soluzione del problema. Tu del lavoro che facevi? Montavo gli ascensori, gli ascensionisti. La fine è 28 anni. Poi dopo ho fatto il carcerato. Non ti passava la scensorista? No, non neanche le fa la vittima. No, no, no. Si è spagliata. Non c'erano le tue responsabilità. Succede, poi succedono cose gravi, magari anche più grandi che te, ma che poi le devi sopportare e le riporta avanti. Quando esci, quando sei libero, che pensi? Io mi auguro che per una volta nella vita, prima che esco dal carcere riesco ad andare da qualche parte a lavorare. Se così non fosse, per me a 60 anni non so che vado a fare, non c'ho idea. Questo vale pure per chi non sta in carcere. Sì, ma tu mi hai chiesto a me. Certo, no, no, per dire che la situazione è difficile a prescindere. Chi te vuole? Anni addietro mi pesava tantissimo. Dovevo abito io, vedeva gente che si girava vicino all'euro. E ti indicava, no? Dico, quello è, perché mi conoscono tutti. Adesso non mi ha presa neanche più, cioè. Fate quello che mi pare. E cosa fa moglie da anni? Ogni volta che mi ha fatto colloqui? Che fanno moglie? Che ha fatto moglie da anni ogni volta che viene a fare colloqui? Ah sì, l'ispettrice l'ora che ogni volta io l'aspetto sempre. Vai, avanti, 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 via. Ti aspetti sempre? No, l'unica cosa che... Vai, tranquillo. Eri fermato. Dai, mi fermo. Ti sei ripreso? Ti sei ripreso? Vai, vai, riprendi. Vai, asciugati. Andiamo via, la conosco. Da quando c'avevo 14 anni? Si chiama? Cristiana. C'ha avuto un'altra vita perché ci siamo lasciati, lei c'ha avuto un figlio, però adesso sono 12 anni che stiamo insieme e l'unica cosa che mi commuove è lei. E va bene, meno. E non riesco... L'unico peso che c'ho. Vabbè, tranquillo. Difficile di tranquillo. No, lo so, lo so, lo so, no, lo so. E figura che qualcosa devo dire, che cazzo devo dire. Stavo di stazzito priva. No, ma lei è stata la colpa. È vero, il rispettore, mi colpisce profondamente perché poi è l'unica persona che soffre insieme a me. Che comunque mi crede. Ti faccio un'ultima domanda. Per fortuna. Tranquillo, poi demollo. Tu lo segui il dibattito politico, le cose... A volte, se non mi addormenti... Vabbè, quello vale per tutti. Sono uno che dorme tantissimo. Visto che appunto ci sono delle decisioni che cambiano, le dinamiche, le vite pure di chi sta qua dentro. Come ti sembra che venga trattato il tema carcerario dalla politica? La considerazione dei detenuti della vostra vita qua dentro. La politica non ha interessi. Cioè, hanno il senso di civiltà che li obbliga a tenerne conto. Ma non hanno un parere vero e effettivo di quello che succede all'interno del caso. Un parere o un interesse? Come politica, se parliamo di interessi, non lo so, gli interessi sono tutti altri. No, no, l'interesse è voi. Tu voti. Purtroppo sono interdetto dai pubblici uffici da ragazzino. Appunto, e come te e tanti altri. Perpetuo chiaramente. Voi non votate. No, c'è chi vota. Siete poco interessanti da quel punto di vista. Questo lo dico io, no? No, no, no. È una considerazione mia. No, tranquillo. Per qualcuno siamo stati interessanti. Negli anni radicali, comunque hanno avuto... Ah, vabbè, certo, certo. Altri pure hanno tentato qualcosa del genere. Però è sempre un contorno a conto diverso da quello che è reale. Il carcere lo vive il carcerato e le guardie che c'è stanno. La realtà è vera del carcere, la conosce nessuno. Ci devi venire, ci devi vedere. Perché poi io incontro gente, ho incontrato gente. Ma c'avete la televisione? A coloro qui. Il campo da pallone. Cioè, rimangono sbalorditi. Lavorate. Lavorate. E vedano pure i soldi. E vedano pure i soldi. Ah, voi dovreste pagare per quello... Non riescono a capire... Sì, sta cosa mi hanno un po' No, no, ma non riesce a capire. Come ci vuoi tenere qua dentro? Che vuoi fare? Marcire in galera è un'espressione... No, perché già quello succede. Pure quella televisione? Sì, appunto. Io faccio questa distinzione sempre dal 2015 perché prima c'erano delle regole quasi medievali all'interno dell'istituto che ancora oggi esistono. Tipo? Se tu vuoi in gelato, tu che fai oggi? Vado a gelato, io di te so che meto gelato. Quindi è uscita qua, c'è il bato, ti compri il gelato. Io lo penso oggi, lo segno sabato e me lo mangio mercoledì. Questo pure adesso? Questo sempre. Quindi c'erano delle regole che io ritengo siano ancora medievali. Cioè è una burocrazia che te fa stufà, di chiede. Tu non chiedi più. Tu devi chiedere tutto? Sì, praticamente no. Solo darmi al bagno può essere che te sarti. Al bagno come funziona? State in cella? State solo in sei? Sì, no, io sono uno dei fortunati perché c'è una condanna alta quindi sono riuscito a venire a cella singola. La cella singola che è 4 metri e poco più e 2,20. Ai piedi del letto c'ho il bagno, c'ho la tazza del gabinetto. E sopra c'è il televisore? Sì, della della bandina. Una vita quasi insopportabile in sé, cioè non ci si riesce a convive. Veramente sembra quasi che poi diventa promiscuo proprio l'ambiente, non le persone, ma l'ambiente è talmente promiscuo che non riesci a sopportare l'altro. Può essere anche tu fratello, tu padre, non sopporti più nessuno. Questo è il supplemento pena che poi riesci a avere, no? Vabbè, è quello che all'esterno si aspettano pure che voi viviate per tornare al discorso di prima. No, perché poi, comunque, io sono privato della libertà. Tu stai qua dentro e da qua non ti muovi. Tu mi puoi da quello che ti pare. Qui c'è gente che ha voluto computer, c'è arrivato. Io le muovo tutto il giorno, esco, ma io esco, ma poi, ma là sempre devo rientrare e torno qua. Tanno privato della libertà. Io non esco quando dico io, io esco quando mi dicono di uscire. C'è stanno molte cose che non possono essere capite o fra intese che è ancora peggio. Ci proviamo. Ma l'altro non c'è di uscire. Vabbè, ok, io sto a chiacchierare con te per provarci, poi che... Bisogna vivere, bisogna vivere al carcere anche se adesso è vivibile. Io parlo di 30 anni fa in casa in carcere in un'ara come adesso. E meno male. Sì. Cioè, meno male che in 30 anni si fanno andati avanti. Come si dice, lo Stato della civiltà è un paese che si misura dallo Stato della civiltà e delle carceri. E degli ospedali. Sì, e di tante cose pure. E scuole. Come primario, in casa e gli ospedali sono indicativi. Sono indicativi del sistema. Grazie. Niente. Se lo riesce a farmi mettere a piangere? È colpa tua.